e abbiamo atteso, abbiamo anche spostato di una mezz'oretta, causa pioggia, l'inizio, però ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Gian Libretto legge Sirano e il flauto magico, una produzione della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, che è una nostra sorella, siamo sorelle tra fondazioni partecipate dalla Regione Puglia e con le quali, in modo particolare con la Fondazione Paolo Grassi, abbiamo tanti momenti di collaborazione e di scambio delle nostre attività. Coloco l'occasione per ringraziare il Presidente della Fondazione Paolo Grassi, che è qui con me, Michele Punzi, e per ringraziare tutta l'organizzazione e la struttura, da Alessandra Filomena e a tutti gli altri, i musicisti e gli autori. E per ringraziare ovviamente voi, coraggiosi, che avete affrontato le intemperie per essere qui, per assistere a questo bellissimo appuntamento. Michele. Sì, grazie, buonasera e grazie alla Fondazione Di Vagno per l'ospitalità, come sempre, straordinaria e per darci la possibilità di portare anche le nostre produzioni, magari più piccole, più adatte, ai più piccoli, anche fuori da quella che è la sede della nostra fondazione a Martina Franca. Come diceva il Direttore, siamo sorelle, però voi magari chi ha una sorellina, un fratellino, ogni tanto litigate, noi non litighiamo, andiamo d'accordo, perché abbiamo un ideale comune, pur facendo cose diverse, quello che la cultura è uno strumento per rendere migliori i posti dove viviamo e dove operiamo. Quindi quando la Fondazione Di Vagno ci invita o ci chiede una collaborazione, viceversa credo, per noi è sempre un grandissimo piacere. Adesso vedrete Gian Libretto. Chi è Gian Libretto? Gian Libretto è un folletto, ve lo racconterà lui, non vuole che lo si dica, che vive nella sede della nostra fondazione, che è un po' simile a questo, è un convento, un ex convento, dove noi facciamo musica, ma c'è anche una biblioteca. Nella biblioteca c'è una sezione di libri per bambini e per ragazzi e c'è questo folletto che si aggira e si sistema un po' i libri, li metto in disordine e adesso vediamo che cosa è venuto a fare stasera. Speriamo che possiate passare dei momenti piacevoli e scoprire qualcosa di nuovo, delle storie nuove che magari non conoscete, come Sirannone e il flauto magico, accompagnati dalla musica, che è sempre un valore aggiunto, non dico altro perché quando parlano di adulti sono noiosi, quindi non parlo più. Buona serata e noi torniamo, quando ci invitate torniamo. Anticipiamo che stiamo già pensando in grande per l'anno prossimo, però è giusto un'anticipazione e forse è meglio lasciare spazio a già il libretto. Grazie. Buon pomeriggio! Ciao amici! E ciao a tutti! E noi? Benissimo! Scusiamo! Ma non mi parla, va bene un po' del bambino, eh? Nel senso capirio o speciale. Ma forse è da quel momento non è l'interessante. Mi diamo già di presto, dei libri di loro, del buon letto. E per te non è l'interessante. E per te non è l'interessante. E per te non è l'interessante. Non assurdo. Io mi occupo di scegliere, ordinare, organizzare le libri di te. Per te non poterla più da te. Ma sei bravissimo! Io mi occupo di scegliere, ordinare, ordinare le libri di te. E guardate che l'ho chiamato in tutto il mondo. Io ci ho tutto il mondo, perché sono trovati qui in una biblioteca che ho pensato. Sì. C'è un'altra cosa che mi piace fare. Ed è proprio leggere le storie di altri. Oggi ho deciso di leggere i libri. Due sono più le stesse. Sapete? I libri hanno un'anima. Non sono più le persone. I libri ci aiutano a confettere il mondo. A conoscere tanto stesse. Voi le vedete? La nostra è l'eterno. Ma oggi ne abbiamo avuto. Non sono. Quei libri hanno un'anima. Perché sulle pagine. Quelle parole affettano di essere rette dai vittori e dai vittori. E per un motivo ben precioso. Per sprigionare la magia di lui. Sì. Ognuno ha la sua magia particolare. Sapete chi è? E' una mia grande sinistra. Perché la ricorda. Perché la ricorda sono veramente speciale. E sono speciale perché sono monosicisti. che scopertano di essere rette dai vittori e dai vittori e dai vittori e dai vittori. Bene. Ecco la luce. Vieni qui. Ti presento ai miei nuovi amici. è un po' finita però adesso le chiediamo se vuole stare con lui è proprio da prendere il mio gioco eccolo qui in maniera ho bisogno di chiederti una cosa vuoi suonare con me dentro il mio e la mia professora ha detto sì sì la mia Sirano aveva un grosso naso che quando fumava gli si abbrustolivano sempre i peli delle narici e quando pioveva i baffi non gli si bagnavano mai Sirano viveva nell'epoca in cui le persone si spostavano a cavallo e combattevano con la spada le ragazze erano molto carine ma non si lavavano quasi mai i ragazzi non sorridevano perché già a vent'anni avevano perso tutti i denti tempi terribili soprattutto per quelli che si trovavano con un grosso naso e Sirano aveva un grosso naso Sirano aveva anche dei bellissimi occhi verdi certo difficili da vedere dietro quel grosso naso avere il naso grosso non è molto diverso da avere delle orecchie grosse o dei piedi grossi o delle guance grosse se non per un particolare con il naso grosso si viene presi in giro da tutti per questo Sirano dovette imparare in fretta a difendersi dai rompiscatole così divenne molto molto furbo ma anche molto forte nelle risse capitava spesso che un rompiscatole scoppiasse in una risata ma guarda che naso grande che ha è enorme da non credere Sirano gli rispondeva che nel suo caso non si trattava propriamente di un naso ma piuttosto una canna per la pesca di un pesce anche di un trampolino per le camanette o addirittura come bastone per cacciare i mammi come bastone come bastone come bastone come bastone come bastone e la nuova Sirano era anche un poeta ma spesso il rompiscatole di turno non capiva assolutamente nulla di poesia allora Sirano lo colpiva sulla testa per rendergli più chiaro il concetto avere un grosso naso non impedisce di avere una vita normale mangiare ma senza esagerare col pepe col pepe oppure bere ma con la cannuccia o dormire ma ovviamente non ha pancia in giù e persino innamorarsi ebbene sì Sirano era innamorato di sua cugina Rossana Rossana Gli hanno detto che non ci si può innamorare della propria cugina, ma tanto lui non avrebbe mai osato dichiararsi per via del suo grosso naso. Cyrano era infelice. Oltre a essere sua cugina, Rossana era bellissima, aveva un vestito rosso, era molto furba, ma non era molto forte nelle risse, però questo non aveva alcuna importanza dal momento che a quel tempo le ragazze non si battevano, fatta eccezione invece per le smorfiosette, sapete quelle ragazze che hanno la lingua biforcuta. Rossana invece preferiva dedicarsi ad altro, come andare a cavallo oppure innamorarsi. Anche Rossana era innamorata infatti di Cristiano. Cristiano era molto stupido, come una pietra e infatti solo con le pietre riusciva a parlare, ma essendo molto bello parlava solo con i bei ciottoli, quelli levigati dal mare e dorati dal sole. Anche Cristiano era innamorato di Rossana, ma nemmeno lui osava dirglielo per via della sua grande stupidità. Peraltro Rossana amava molto la poesia. Sirano non era solo molto furbo, forte nelle risse e un poeta, ma era soprattutto molto buono. E poi che, dopo aver conosciuto Cristiano e aver promesso a Rossana di proteggerlo dai ragazzi malattrini e spadaccini, diventando suo sincero amico, Sirano ha deciso di aiutare Cristiano anche se questo lo avrebbe intristito molto di più. Ma Cristiano era terrorizzato all'idea di incontrare Rossana, lui così stupido e abituato a parlare solo con le pietre. Ma Sirano gli disse di non preoccuparsi, che avrebbe parlato lui al posto suo. Giunta la sera, Rossana si attardava sul balcone di casa. Cristiano era ai suoi piedi, in giardino, mentre Sirano si era nascosto in un spuglio di lavanda. Sirano gli suggeriva le parole in versi poetici. Cristiano declamava assumendo un'aria ispirata. Rossana trovò Cristiano fantastico e Cristiano trovò Rossana una persona incantevole. E tutta un tratto, l'amore li colse all'improvviso. nascosto nel suo cespuglio di lavanda. Sirano li guardava e profumava di bucato. C'era un rompiscatole che non sopportava Sirano. Era il conte de Guish. Era ricco, maligno, bello, con un naso piccino e amava la guerra. Anche lui amava Rossana, ma Rossana non lo ricambiava affatto. No. E siccome era troppo orgoglioso per ammetterlo, fingeva di infischiarsene. Ma poiché non se ne infischiava davvero, sapete cosa fece? Spedì Cristiano e Sirano a fare la guerra, allontanandoli da Rossana. Il conte de Guish era quindi davvero molto, molto furbo. Fortunatamente però, prima di andare a combattere, Cristiano sposò Rossana. Questo non evitò a Cristiano di andare in guerra, ma ormai aveva una moglie e poteva fare il gradasso con gli altri soldati. Quindi era sempre molto stupido. La guerra è terribile. La guerra è morte, odio e paura. La guerra è lacrime. La guerra è è rumore. Soprattutto la guerra fa talmente rumore che chi la combatte diventa completamente sordo. Non sente nemmeno più i bambini che piangono. Cristiano e Sirano si ritrovarono presto nel bel mezzo della guerra, assediati dal nemico. I soldati avevano fame e sognavano i galletti allo spiedo, i maialini arrosto. Cristiano aveva paura, ma Sirano gli disse ancora una volta di non preoccuparsi che avrebbe combattuto lui al suo posto. Calata la notte, quando la guerra alla fine taceva. Sirano pensava alla sua Rossana. tutti i giorni le scriveva lettere di silenzio e bellezza, facendosi passare per Cristiano. Pensate, attraversava grandi pianure desolate per portare le finte lettere di Cristiano a Rossana. E Rossana purtroppo le trovava così belle che decise di fare una sorpresa a suo marito, raggiungendolo, mentre era a combattere. Che terribile quiproquo, che poi significa che terribile malinteso. Ma quando arrivò Rossana, Cristiano si disperò, perché si rendeva conto che lei lo amava soltanto per il suo cervello e per le magnifiche lettere che però erano state scritte da Sirano. Così fuggì da solo nella tormenta e si fece uccidere dal nemico. Rossana era distrutta e nel fracasso delle armi a consolarla c'era solo Cristiano. La guerra si esaurì e finì per spegnersi. Tutti, almeno quelli che rimasero in vita, tornarono a casa, ritrovarono le proprie mogli, i figli, mangiarono i galletti allo spiedo, i maialini arrosto. E col passare del tempo, Sirano diventò vecchio. Aveva sempre un grosso naso e adesso pensolava anche. Rossana era sempre triste per aver perso il marito in guerra. Non indossava più un vestito rosso, ma un vestito nero e viveva in un convento. Sirano andava spesso a trovarla perché l'amava ancora. Sirano era sempre molto furbo, ma decisamente meno forte di prima nelle risse. Era diventato vecchio ormai e i vecchi non combattono più, a parte i vecchi spilorci, quelli che non vogliono spendere neanche un soldo. E un giorno proprio uno spilorcio diede una gran botta in testa a Sirano. Ma Sirano andò comunque a trovare la sua Rossana. Quando arrivò da lei, Sirano non vedeva già più nulla. Tanto era stata violenta la botta che aveva ricevuto. Nella penombra riusciva a scorgere soltanto il viso della sua amata. Lei gli lesse l'ultima lettera che aveva ricevuto da cristiano, ma Sirano la conosceva a memoria, avendola scritta lui stesso. Rossana se ne accorse e capì che era sempre stato Sirano il suo amore. Sirano un poco dopo morì, ma un attimo prima di morire sorrise, con un sorriso enorme, perché era finalmente tra le braccia della sua amata. Grazie. 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 E' un'altra mia vita speciale, non divina come l'altra, ma è speciale anche lei. Si chiama Alessandra. Grazie. In un paese di monti e foreste viveva un mercante di uccelli di nome Papagheno. Un giorno, lungo un sentiero, Papagheno scorse un enorme serpente, trafitto da tre lance. Poco più in là, nell'erba, pensate, giaceva un giovane principe con un arco spezzato ai propri piedi. Il suo nome era Tamino. Papagheno si avvicinò e depose la voliera che portava sulle spalle. Lo straniero, svegliato dal grido degli uccelli, aprì gli occhi. Dove mi trovo? Sto forse sognando. Poi, quando vide il corpo dell'enorme bestia, chiese all'uccellatore Ma sei stato tu che hai ucciso l'orrendo serpente che mi stava inseguendo? Sì, 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 sono stato io, io, Papagheno, farfugliò lui. Proprio in quel momento, un lampo accecante brillò da una roccia. Ne uscì una dama dall'abito stellato che si rivolse al principe dicendo Sono la regina della notte. Il mercante sta mentendo. Non è stato lui a uccidere il serpente, ma le mie tre damigelle. Poi, forse a Tamino il ritratto di una fanciulla e lo supplicò Principe, ora tocca a te diventare il mio salvatore Il maestro del bosco sacro, l'infame Sarastro ha rapito mia figlia e la tiene prigioniera nel suo castello. Va! Libera Pamina e lei sarà tua per l'eternità. Prendi questo flauto, ti sarà d'aiuto. A te, invece, bugiardo uccellatore, dono questo carion. La principessa Pamina era bellissima. Tamino decise così di partire alla sua ricerca e si incamminò verso il bosco sacro. Il mercante d'uccelli lo seguì borbottando Ah, quel salastro è più crudele di una tigre. Mi farà sicuramente spennare, arrostire e gettare in pasto ai cani. Appena entrarono nel cortile del castello circondato da palme alcune fiere selvagge sbarrarono loro il passo. Papagheno, bianco per lo spavento, corsi a nascondersi tra gli alberi. Tamino, invece, pur da solo e senza il suo arco, non fuggì. Prese il flauto magico della regina della notte e cominciò a suonare. Le belve, le belve minacciose, come incantate dalla musica, si misero a ballare in modo grottesco e andarono via. Ma ecco entrare nel cortile un carro trainato da sei leoni. Sul cocchio c'era sarastro in persona. Tamino corse verso di lui gridando Restituisci Pamina a sua madre, per colpa tua la regina è infelice. E che cosa pensare, giovane valoroso, di una madre che offre la figlia a uno sconosciuto come te per tutta la vita? Gli rispose con calma sarastro, signore di quei luoghi. Pamina non è affatto mia prigioniera. Suo padre, prima di morire, mi ha lasciato il tesoro del bosco sacro, il collare d'oro dai sette soli. Mi ha chiesto inoltre di proteggere sua figlia dalla regina che sogna di dominare il mondo. Maestro, lascia allora che io la veda, che le parli, disse il principe Tamino. Cerca Pamina e seguite il vostro destino, rispose sarastro. Allora Tamino camminò a lungo tra le palme. Non incontrò nessuno e si mise a suonare il flauto. Come per incanto nella penombra del vasto giardino scorse una fanciulla. E sono il principe, disse, inchinandosi di fronte alla bella sconosciuta. Pamina, perché proprio di lei si trattava, gli sorrise. Benvenuto Tamino, sai che il flauto che stai suonando è stato intagliato da mio padre in una quercia vecchia di mille anni. Aveva predetto che solo un cuore puro avrebbe potuto trarne suoni dai poteri magici. Sei tu quel cuore, Tamino. Sei tu il principe che sognavo. Vieni con me. Seguimi. Così il principe e la principessa camminavano conversando quando a un bibio si trovarono improvvisamente circondati dalle guardie del castello. Il capo delle guardie, un gigante, si presentò. Sono Monostatos, il guardiano della principessa. Poi sguainò la spada contro Tamino e gridò ancora, io amo Pamina, non sarà mai tua. Mai. Di fronte a questo nuovo pericolo Tamino non ebbe bisogno di utilizzare il flauto perché subito si udirono le campanelle del carillon di Papagheno. Come per incanto, Monostato. Se le guardie presero a danzare in modo buffo e si allontanarono. Papagheno, che aveva seguito Tamino a distanza, saltò fuori e, orgoglioso come un uccello del paradiso, offrì alla principessa il più bello signolo della sua voliera. Poi esclamò allegramente, ho una voglia matta di riempirmi la pancia. E se la svignò di gran carriera verso il castello, entrò nelle cucine e non riuscì a credere ai propri occhi e al proprio naso, una lunga tavola imbandita e profumata di mille cibi diversi. Sembrava aspettare proprio, proprio lui. «Ehi là! C'è qualcuno!» Non rispose nessuno. Papagheno allora si accomodò e mangiò tutto quello che poteva. Intanto si lamentava. «Ah, Tamino è innamorato! Mentre io, povero papagheno, non ho nessuna bella da amare!» «Sono qui, angelo mio!» Mormorò una voce soave. Papagheno si girò e subito indietreggiò. «Ho ripilato la vista di una vecchia strega vestita con un lungo mantello!» «Il volto nascosto da un cappellaccio!» «Porgimi la mano!» gli disse. Ma poiché Papagheno stava per darsi la gamba, la strega esclamò. «Obedisci!» «Altrimenti finirai per tutta la vita in una cella a pane e acqua e senza un'amica!» «Senza un'amica!» «Oh no, pietà!» disse Papagheno. E il mercante di uccelli così le tese la mano. Allora accadde una cosa straordinaria! Gettati il mantello e il cappellaccio, la vecchia si trasformò in una giovane e graziosa damigella, anch'essa vestita di piume, proprio come l'uccellatore. e disse «Io sono Papagheno!» «A medida di durare, ma rischandriel si trasformò in un minuto!» Анonimo com質. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La voce della regina riecheggiò tutt'attorno. Guardie, voi che mi servite affinché io diventi la regina del mondo, correte a liberare mia figlia e date fuoco al castello maledetto. Scacciate con la spada sarastro e portatemi il tesoro del bosco sacro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.